L'azienda nasce nel 1980 con mio zio, che è agricoltore e ha iniziato anche l'attività di conto terzi. Siamo tre fratelli più 11 dipendenti. Lavoriamo principalmente in provincia di Piacenza, ma anche a Cavia, Cremona e Parma. Il parco attuale conta quattro macchine, tre CR e questa CX di ultima generazione. È stata certa questa macchina perché dalle caratteristiche tecniche ha un 20% in più di rendimento di quelle tradizionali. Sono macchine evolute che richiedono lubrificazioni di alto rendimento e hanno bisogno di prodotti di alta qualità. La mission aziendale di Terre Padane è sempre di portare sul territorio e ai propri clienti innovazione e prodotti al top di qualità e di gamma. I lubrificanti Petronas sono sviluppati in collaborazione con New Holland fino alla progettazione di queste macchine. Quindi utilizzando i lubrificanti raccomandati Petronas per i marchi New Holland riusciamo a diminuire il costo di manutenzione della nostra macchina. Diminuire il costo di manutenzione come? Naturalmente allungando gli intervalli di sostituzione, quindi diminuendo i fermi macchina, specialmente quelli di manutenzione ordinaria, ma naturalmente diminuendo anche i fermi macchina della manutenzione straordinaria, che sono i più impattanti nell'economia di un'azienda agricola o di un contotersista come il nostro cliente. Questo naturalmente perché i prodotti Petronas sono gli unici che riescono a garantire il massimo intervallo di sostituzione. Quindi utilizzando prodotti non raccomandati, l'intervallo di sostituzione deve essere diminuito, ad esempio su un olio motore, da 600 a 500 ore. 100 ore in meno se non si utilizza un prodotto originale. Il rapporto con Tere Padame dura da diversi anni. È una garanzia perché è un partner affidabile sul territorio. La collaborazione con partner strategici come Petronas ci permette di offrire ai nostri clienti prodotti di qualità e con alte prestazioni. Questo permette di spostare i tempi di manutenzione e diminuire i costi che sostengono tutti gli anni sia le aziende agricole che i terziani. Ovviamente essendo molto più efficienti e permettendo meno cambi di olio e meno manutenzioni impattano molto meno sull'ambiente.